Maria Tartalino è un'umile creatura di asti, rivela senza volerlo di avere dei doni singolari, dei doni speciali ricevuti da Dio. Lei è vissuta per le anime, per i peccatori soprattutto. Padre Pio ha sempre creduto alla verità del sanguinamento del crocifisso, ha sempre detto però abbiate prudenza, abbiate pazienza. Pio ha sempre creduto alla verità del sanguinamento del crocifisso, hai toccionata,i spiegare prudenza. La verità del sanguinamento del crocifisso, la verità del sanguinamento del crocifisso, Asti di fine ottocento è segnata dalla fede vissuta e diffusa da ottimi sacerdoti, tra i quali si è distinto Monsignor Giuseppe Marello, santo vescovo di Acqui, fondatore degli oblati di San Giuseppe e del suo istituto Santa Chiara, a servizio dei piccoli, dei poveri, degli orfani. Dopo la sua morte, avvenuta il 30 maggio 1895, Asti conserva il ricordo profumato delle sue virtù che continuano nell'opera, nella predicazione, anche solo con la presenza dei suoi oblati. San Giuseppe Marello nel 1883 ad Asti, nell'attuale Corso Alfieri, proprio di fronte alla casa degli illustri drammaturgo, poeta, scrittore, autore italiano, riscatta l'antico monastero di Santa Chiara, oggi casa madre della congregazione da lui fondata, gli oblati di San Giuseppe. Questo sarà il luogo che ospiterà negli anni un ospizio per anziani, per malati, per orfani e delle scuole. Cinque anni più tardi dalla morte del Marello, nel 1900, sarà ospitata in questa casa una piccola orfana, Maria Tartaglino. Maria Tartaglino è nata ad Asti, venerdì 17 settembre 1887, da Giovanni Tartaglino e la Falli Olimpia. Rimase presto orfana di mamma, quando non aveva ancora due anni, perché la mamma morì il 7 luglio 1889 ed il papà il 30 aprile 1908. Fu cresciuta dalla migliore amica di mamma Olimpia, Teresa Valsania, che la bambina chiamava zia. Maria fu battezzata il 18 settembre 1887 nella parrocchia di San Pietro ad Asti e ricevette poi la cresima nel 1900 nel Duomo della città. Nello stesso giorno ricevette anche la prima comunione nella vicina chiesa di San Martino. Già da bambina fu segnata dal sigillo della croce. Perse la vista dell'occhio sinistro. Il 23 ottobre 1900 entrò nell'istituto chiamato Santa Chiara per far parte delle figlie di Sant'Anna, fondate da San Giuseppe Marello. Erano orfanelle che, divenute adulte, non volevano passare tra le suore ma nemmeno tornare nel mondo. Tre virtù animavano questa famiglia, umiltà, carità e obbedienza. Inoltre, vivendo accanto agli oblati di San Giuseppe, la congregazione fondata da Monsignor Giuseppe Marello, provvedevano al servizio domestico di quest'ultimi, alla casa e all'ospizio di Santa Chiara. Maria viene ospitata nell'istituto Santa Chiara, insieme ad altre bambine, ad altre ragazze, delle quali si prende cura una famiglia religiosa fondata da San Giuseppe Marello, le figlie di Sant'Anna, che avrebbero dovuto poi essere le suore Giuseppine. La sua accettazione da parte dei superiori ha qualche cosa al di fuori dell'ordinario. In un primo tempo non accettarono la sua domanda, portando alcune ragioni che forse non erano che scuse più che difficoltà vere. Ma un giorno si presentò ai superiori un vecchietto distinto, che perorò l'accettazione di Maria. «Prendetela», disse ai padri Giuseppini, «sarà la vostra fortuna». E Maria fu accettata. Nessuno ha mai saputo o capito chi era questa figura. Si pensa che sia San Giuseppe, ovviamente il protettore della congregazione degli Oblati, dei Giuseppini. Per cui Maria Tartaglino entrò così di fatto nell'Istituto Santa Chiara. Venne messa fra le orfane, cioè con le bambine più piccole, però con una funzione quasi didattica. Perché la mamma adottiva, la Teresa Valsagna, aveva insegnato a cucire a questa ragazza. E tra l'altro era un'ottima ricamatrice. Anche in seguito Maria Tartaglino fece molte opere di cucito, di tessitura anche per gli esterni. Perché in genere in questi istituti facevano dei lavori per l'esterno, per i laici di fuori. E poi vendevano questi prodotti. Maria Tartaglino era molto abile a cucire, quindi venne messa ad insegnare alle bambine queste cose. Sei anni dopo, nel 1906, la Maria Tartaglino entrò ufficialmente tra le figlie di Sant'Anna. Maria Tartaglino, giovanissima, rivela senza volerlo di avere dei doni singolari, dei doni speciali ricevuti da Dio. La sua vita è molto semplice. Cresce, prega, è disponibile a tutti i servizi, si specializza in ricamo, in cucito, in ricamo. E soprattutto vive un intenso rapporto con Gesù. Molto presto, anche se lei supplica al Signore di volerla tenere nascosta, molto presto si rivelano questi doni. Possibilità di leggere nei cuori, una preghiera intensissima, una preghiera dove lei non solo prega, come prega ogni buon cristiano, ma vede Gesù. Gesù vede la Madonna in contatto continuo con il soprannaturale. Gesù le parla e le chiede di partecipare all'opera della sua redenzione. Maria Tartagnino è una figura spirituale. Lei aveva una grande capacità di pregare, una grande capacità di estragnarsi dal mondo e praticamente già da bambina aveva fatto il voto di pregare per le anime del purgatorio. E si racconta che di notte alcune di queste anime venivano a chiedergli aiuto, chiedergli suffragi per poter salire il cielo. E lei si frestava moltissimo per fare questo. Inoltre ancora amava mortificarsi il corpo. Il corpo preferiva delle volte di notte non dormire nel letto ma stare coricata sulla nuda terra con le braccia aperte pregando in suffragio delle anime del purgatorio. La sua vocazione era l'amore. Amare Dio al sommo grado possibile e amare i peccatori per salvarli. Un posto del tutto particolare nel suo cuore lo avevano i sacerdoti. Per la loro santificazione si offriva di continuo come vittima interceditrice. Ha sopportato molte sofferenze, morali, fisiche e mistiche. Davvero Gesù crocifisso la fece sua sposa crocifissa. Gesù le fece provare la sua passione sia nel corpo che nell'anima. Tristezza, tedio, paura, flagellazione, coronazione di spine, crocifissione. Ardentissima sete, insulti, calunnie. Ha portato i segni delle stigmate visibili per cinque anni. Dal 31 dicembre 1925, vigilia del primo venerdì del mese, fino al 1930. Poi, supplicando essa il Signore che gliele togliesse perché nessuno se ne accorgesse, fu esaudita. Però i dolori della passione di Gesù, Maria li vive tutti i giovedì, sera, fino al venerdì, pomeriggio inoltrato. Unita al crocifisso, unita a Gesù che offre per la salvezza del mondo. Sua vita assume subito il carattere di un'offerta, di un sacrificio con Cristo, offerto per la Chiesa e per tutte le anime. Maria è in primo piano la santificazione dei sacerdoti. Vede in un modo singolare, vede le anime di chi li avvicina come se le vedesse davanti, come se le vedessi in realtà, ha uno sguardo intensissimo di introspezione nella sua anima e nell'anima degli altri. È Gesù che la guida a questa missione tutta singolare. C'è un sacerdote che le fa da direttore spirituale. All'inizio è Don Medico, uno dei primi padri giuseppini di Asti. Ma Gesù le dice, per te ci vuole un alto sacerdote. E le indica il viceparroco di Santa Caterina, poi il parroco di Rocca d'Arazzo, Don Placido. E per tutta la vita Don Placido sarà il suo confessore, sarà il suo padre spirituale. Ma in realtà capita sovente che è lei stessa che dirige il padre spirituale, è lei stessa che dirige i sacerdoti ai quali si accosta. con una fede eccezionale, con una luce che discende proprio da Dio. La sua vita rimase nascosta fino al venerdì 11 agosto del 1933. Maria aveva 46 anni. Possedeva un piccolo crocifisso alto circa 52 centimetri. Lo teneva proprio sul suo inginocchiatoio, in camera sua. Ed innanzi a questo crocifisso, Maria trascorreva tantissime ore in preghiera e adorazione. Era molto prezioso perché era appartenuto a Monsignor Giuseppe Marello. Maria proprio nei giorni precedenti, all'11 agosto del 1933, iniziava a provare una forte pena interiore. Aveva la sensazione che il Sacro Cuore di Gesù era straziato proprio alla vista di quegli orribili peccati e sacrilegi che venivano commessi da coloro che non temevano Dio. In camera, Maria aveva un inginocchiatoio uguale a quello, con sopra le due state, quelle due, e un crocifisso in mezzo. Non era tanto grande, aveva 52 centimetri, compreso il piedestale tutto. L'11 agosto dell'anno santo 1933, lei faceva un'idea di preghiera sulle ginocchiate. Si accoglie che il costato di questo cuore di pesce si muove, viene fuori sangue. E si è spaventata, ha iniziato a levare, ha iniziato a mettere un strato, non voleva che nessuno sapesse niente. In un certo momento sente una voce di Gesù che dice è inutile che tu lavi, io voglio farlo sapere al mondo. Allora è corsa una stanza vicina, c'era un'altra ricoverata, che è la madre dei nostri due missionari, e dice vengo a vedere, vengo a vedere. E cosa c'è? Va là. Questa Maria Mortera tocca col dito il crocefisso, rimane intrisse di sangue. È rimasta impressionata. Ora chiama il superiore, chiama la suora, molto belle di persone, controllare e vedere. E di fatto c'era sangue, è vero. Là c'era un piccolo segno, non era tagliato il crocefisso, era dipinto un piccolo segno, si è aperto, come fosse carne viva. Però ha messo a silenzio tutto, nessuno deve dire niente. Arriva il mese di settembre, siamo esattamente al 27 settembre, la Maria Tartagnino sente una voce interna che le dice sarà l'ultima volta che opererò il mio, miracolo, chiama assolutamente dei testimoni che voglio che assistano a ciò che sta per succedere. E soprattutto dice chiama la mia sposa. Maria Tartagnino, dato che aveva anche ovviamente dei problemi di salute, aveva avuto la diagnosi di tubercolosi, era stata messa, era stata aiutata da una suora infermiera che era stata messa a sua disposizione del rettore generale della casa. Questa suora si chiamava suor Garberoglio, era tra l'altro la sorella del vicario, del vice-rettore. Era, quindi, era sempre presente. Questa suor Garberoglio, per una coincidenza di cose, non era potuto essere presente al sanguinamento dell'11 agosto. Maria Tartagnino sente questa voce e soprattutto chiama la mia sposa. Allora, siamo al 27 settembre, siamo di nuovo intorno alle 13, le suore sono a pranzo, lei è sola in camera, ecco che riprende il sanguinamento. E questa volta è un sanguinamento molto più copioso, molto più grande. Il sangue cade addirittura per terra. Allora lei, seguendo l'impulso della voce, va sul pianerottolo, fa chiamare questa suor Garberoglio. Suor Garberoglio stava pranzando, viene interrotta, va in camera della Tartagnino, vede questo sanguinamento, allora sorpresa, si inginocchia, si mette a pregare. Il 27 settembre, di nuovo fa sangue, lo stesso e così qui, sono sempre nella camera di Maria, è lì in abbondanza. Qui abbiamo la fotografia del 27 settembre, finita l'emissione di sangue. L'emissione dell'11 agosto, lo è in un altro quadro, è seguita la differenza, qui è più pieno di sangue, crosta di sangue, per metterli insieme, sono due giorni di emissione di sangue, di corcipissimo. Il fotografo era canonico di quel santuario che vedete qui davanti, il santuario del portone. Ha chiamato lo suore, a fotografare. Ha chiamato in fretta, anche nella seconda emissione, ha fatto tempo a prendere la fotografia mentre stavo uscendo per dire l'ultima voce. Questa è proprio l'ultima. Naturalmente, qui bisogna farlo riconoscere, perché il Signore ha detto che voglio dire dal mondo. Però, il silenzio è perfetto che da parte dei nostri superiori, io ero appena arrivato ad Asti, sono arrivato il 30 settembre, ero già avvenuto due anni, e poi l'emissione di sangue non sapevo niente. Gesù che dice a lei, io sono l'immagine del Padre mio nella divinità, perché lui è Dio. Tu sarai l'immagine della mia umanità. E l'Etatri dice, quando sarà tua volontà, Gesù, che io ti faccia conoscere e amare, ti mostrerò, sarò lo stensorio che ti mostra nella fede a tutti. in me ti rifletterai. Questa volta vengono chiamati molti testimoni, vengono chiamate le altre suore, fra cui la superiore delle novizie, Suor Maria Anna de Nicolai, con la sorella Suor Giuseppina, interviene Suoraina, un'altra suora, intervengono questa volta anche i religiosi. Intervengono infatti Padre Viola, Padre Garberoglio, il vice-rettore, Padre Possavino, Padre Bianco e altri ancora. Manca il rettore generale, Padre Martino, perché era a Roma, era stato mandato dal vescovo per spiegare la questione del primo sanguinamento al Sant'Uffizio. Comunque, questi religiosi tutti vedono il sanguinamento, ne restano colpiti. l'unico dubbioso è l'economo della casa, Padre Possavino, Alfeo, che non è tanto convinto, infatti va vicino al crocifisso, lo prende in mano, lo controlla, tocca le ferite e a un certo punto si rende conto che è vero sangue, non è un trucco, non è una invenzione, si inginocchia, chiede perdono a Dio di aver avuto questo dubbio e diventa poi uno dei più tenaci sostenitori del crocifisso miracoloso di Asti. Da quel periodo Maria Tartaglino è letteralmente terrorizzata da quella celebrità che il suo crocifisso le dona. Vorrebbe sparire, sparire dal mondo perché nessuno la possa così avvicinare. Non chiede altro al Signore di essere avvolta nel silenzio e così di diventare ogni giorno vittima con lui. Il Vescovo di Asti, Monsignor Umberto Rossi, costituì un tribunale ecclesiastico diocesano proprio per andare ad esaminare quanto era accaduto. vennero interrogati circa 17 testimoni tra cui 7 sacerdoti 6 suore una signora una mamma di due sacerdoti missionari Giuseppini e due amiche della Tartaglino e poi la testimone più importante Maria Tartaglino. un processo come si diceva allora un'inchiesta per vedere se veramente il fatto è vero e sa di soprannaturale oppure se è frutto di inganno se è frutto di allucinazione. Entrambi i processi sia quello condotto dal padre generale dei Giuseppini che l'altro condotto dal Vescovo di Asti e da suoi sacerdoti di fiducia coadiuati da medici esperti arrivano alla conclusione di affermare che il crocifisso ha veramente sanguinato ha veramente sanguinato. Il crocifisso esaminato da due specialisti di radioscopia e radiografia risultava senza alcun foro che dall'interno andasse a comunicare con l'esterno. Fu poi esaminato anche il sangue dall'Istituto di medicina legale dell'Università di Torino e si trattava di sangue umano. Il processo si concluse con una sentenza. La verità assoluta dei fatti è provata dalle testimonianze numerose e incontrovertibili che sono state raccolte sotto il vincolo del giuramento e con la più scrupolosa attenzione in due processi. quello a cura della curia arcivescovile e l'altro invece a cura della congregazione degli oblati di San Giuseppe. All'inizio di marzo del 1934 mentre ancora è in corso l'anno santo della redenzione il vescovo stesso Monsignor Rossi intronizza nel santuario di San Giuseppe da poco eretto il crocifisso ed è subito una fiumana di gente che viene in pellegrinaggio ad Asti presso il crocifisso come viene detto il crocifisso di Asti. Maria sa che quel fatto della sanguinazione di Gesù è avvenuto proprio perché oggi Gesù rinnova la sua passione nelle anime di chi soffre ma ancora di più nelle anime di chi lo rinnega anche oggi Gesù rivela a Maria Tartaglino io sono rinnegato io sono crocifisso io sono messo da parte tu devi partecipare alla mia opera di redenzione vengono anche personaggi illustri come padre Reginaldo Giuliani dei Domenicani dei Domenicani di Torino futuro martire nella guerra di Abissinia vengono sacerdoti forse in incognito qualche vescovo comunque soprattutto nelle chiese di Asti a partire da San Giuseppe dal Duomo che non è lontano da San Secondo si assiepano i confessionali è una vera missione cittadina una vera missione diocesana che va oltre ogni aspettativa si interessa di tutto il Sant'Uffizio di Roma che manda un visitatore apostolico padre Lorenzo di San Basilio il quale fa un'indagine e per tutta esito per tutta risposta preleva il crocifisso il crocifisso viene riportato a Roma e ad Asti non torna più naturalmente Maria Tartagnino patisce moltissimo questa situazione anche perché il Sant'Uffizio impedisce al padre rettore di fare visita impedisce agli ublati di parlarne infatti dà a loro l'obbligo assoluto del silenzio obbligo che vige tuttora e nessuno ne può parlare anzi hanno anche l'obbligo di distruggere tutte le immagini i batuffoli di cotone intrisi di sangue tutto quanto che fa riferimento a questo crocifisso quindi un danno incredibile soprattutto questo danno si ritorce spiritualmente su Maria Tartagnino che passa gli ultimi anni quindi dagli ultimi dieci anni dal 1934 al 1944 fra dubbi atroci così viene trattata male riceve anche molti insulti la stampa locale e nazionale ne parla malissimo mentre prima che ci fosse effettuata la visita apostolica il processo diocesano promosso dal vescovo di Asti Monsignor Rossi aveva approvato la soprannaturalità e la verità del fatto e questo lascia abbastanza sbigottiti per cui era stato il crocifisso intronizzato al culto pubblico si parla addirittura di 30 40 mila persone ogni giorno nel santuario di San Giuseppe Maria ne soffre molto e come prima c'era stato tutta un'osanna attorno al crocifisso di Asti e attorno a lei ora ora viene fatta passare come come isterica come fatto non vero come frutto di invenzione Maria ne soffre terribilmente non tanto per sé perché avrebbe fatto brutta figura ma per la gloria del Signore Gesù a maggio del 1934 il Vescovo comunica che la congregazione del Sant'Uffizio ha avvocato a sé il giudizio definitivo sul prodigio del crocifisso quindi giunge un visitatore apostolico ad Asti che porta via il crocifisso in Vaticano per ulteriori esami il Vescovo Glioblati e Maria Tartaglino accettarono in obbedienza la dolorosissima decisione il crocifisso da allora non è più tornato ad Asti il crocifisso è di proprietà degli obblati di San Giuseppe anche perché il sanguinamento è avvenuto nella loro casa non dimentichiamo questo e quindi poi esistono comunque degli atti notarivi legali che danno la proprietà loro anche perché adesso l'ultimo proprietario in linea ufficiale del crocifisso padre Alberto Chinovi mancato nel marzo di quest'anno ha dato acceduto questa proprietà all'attuale rettore della casa di San Giuseppe come in qualità di presidente del gruppo Amici di Maria Tartagnino devo dire che in questi ultimi tempi molta stampa locale si è occupata dell'episodio del crocifisso miracoloso auspicando ovviamente il ritorno del crocifisso nella nostra diocese ancora oggi non sappiamo la chiesa giustamente è sempre molto cauta davanti a queste manifestazioni però c'è da dire che il processo condotto da Monsignor Rossi era ristato riconosciuto valido che dei santi come appunto padre Pio del quale ci abbiamo a parlare e Don Luigi Orione insigni sacerdoti e illustri vescovi credono a questo fatto soprannaturale comunque gli ultimi dieci anni di Maria Tartaglino sono terribili Maria Tartaglino aveva anche oltre al dono delle stimmate aveva alle dono delle estasi cadeva moltissimo in sogno estatico in queste estasi vede tantissimi personaggi oltre a Gesù Cristo vede San Giuseppe vede San Pietro vede San Monsignor Marello ha dei colloqui mistici incredibili scrive delle opere che esistono tuttora a questo punto nella vita di Maria Tartaglino entra Padre Pio voi quando volete sapere qualche cosa andate dalla vostra Maria andate dalla vostra Maria quello che la vostra Maria vi dirà io ve lo confermo avete capito proprio con questo interrogativo terminavano le risposte che dava Padre Pio da Pietrelcina a coloro che da asti giungevano a San Giovanni Rotondo ed è questa un'espressione che ha notato nelle sue memorie Margherita De Michelis di Torino che quando giunse qui da Padre Pio le disse ma che cosa sei venuto a fare qui avete la vostra Maria ad Asti avete la vostra Maria andate andate da lei quando andavano a lui da Asti Pellegrini da Asti o dal Piemonte quando andavano da lui a chiedere consiglio a confessarsi a cercare luce sui problemi della vita Padre Pio qualche volta rispondeva ma ad Asti avete la Maria Tartaglino andate da lei che vi darà tutta la luce di cui avete bisogno vi otterrà le grazie di cui avete necessità ebbe un rapporto molto intenso particolare pur vedendosi poco pochissimo ognuno era a conoscenza dell'altro molto bene si racconta di persone che andarono da Padre Pio e che gli parlarono del crocifisso di Asti raccontando e Padre Pio disse so già tutto io so che il fatto è vero continuate a pregare perché la cosa è vera lo stesso rettore generale Padre Martino andò nel 1937 il 6 di ottobre andò da Padre Pio e gli raccontò la cosa a quell'epoca il crocifisso era già stato ritirato dal culto era già stato portato a Roma Padre Pio disse non ti preoccupare tu hai fatto tutto il tuo dovere lascia fare il Signore il Signore conosce la sua strada si farà strada da sé altri laici andarono da Padre Pio a parlare del crocifisso si racconta di una signora di Asti una signora di Michelis la quale andò da Padre Pio in udienza privata e Padre Pio gli disse non preoccupatevi il crocifisso trionferà tornerà ad Asti e farà meraviglie se i padri Giuseppini vedessero quello che di meraviglioso seguirà l'arrivo del crocifisso ad Asti reputerebbero tutto ciò che sta succedendo una nullità questa signora rimase ovviamente di stucco a sentire queste parole Padre Pio ha sempre creduto alla verità del sanguinamento del crocifisso ha sempre detto però abbiate prudenza abbiate pazienza il Cristo tornerà il crocifisso trionferà noi non lo vedremo ma probabilmente lo vedremo lo vedranno i nostri successori eppure Padre Pio non ha mai visto la Tartaglino non si sono mai incontrati su quelle che sono le vie terrene anche se la stessa Tartaglino nei suoi diari ha raccontato che ha incontrato Padre Pio da Pietrelcina in bilocazione sappiamo e abbiamo documentazione io stesso ho letto le testimonianze scritte sappiamo che Padre Pio nella notte leggo dal libro che ho scritto io Maria Tartaglino Ostia con Gesù crocifisso nella notte dell'8 aprile 1939 tra il venerdì e il sabato santo Padre Pio si reca in bilocazione nella stanzetta di Maria presso l'istituto Santa Chiara di Asti a Don Mori un santo giuseppino che la seguì nella sua vita spirituale Maria qualche giorno dopo racconta verso le 3 di mattina mi sono trovata nei pressi del convento di San Giovanni Rotondo e Padre Pio mi si è fatto incontro tutto sorridente e lieto e chiamandomi ripetutamente con il nome dolce di Figliuola dopo un quarto d'ora di interruzione ho visto comparire Padre Pio presso il mio letto a destra e si è intrattenuto con me fino alle 6 e 30 dicono che Padre Pio sia serio e brusco invece con me è stato tanto buono e dolce sarà serio con le anime belle ma con i poveri peccatori come me è tutto bontà e mitezza una bilocazione strana ebbe Maria Tartagnino a San Giovanni Rotondo Maria Tartagnino preciso che lei non sapeva le estasi non sapeva di andare in estasi lei dice che sognava per lei le estasi erano sogni allora un giorno una notte sogna di trovarsi in mezzo a un furioso temporale si trova nel cortile di un monastero lei non sa ovviamente dov'è pioveva tuonava lampeggiava lei aveva paura bussa alla porta di questo monastero di questa casa la porta si apre compare Padre Pio che la apre apre la porta e lei entra restano alcune ore in colloquio così poi Maria Tartagnino si sveglia ovviamente nel suo letto Padre Pio fu in bilocazione da Maria Tartagnino due volte la prima volta l'8 aprile del 1939 esattamente dalle ore 3 alle ore 6 e 30 del mattino Padre Pio si sedette sulla sponda qua del letto insieme a Maria Tartagnino parlarono fino appunto alle 6 delle 30 del mattino quando Padre Pio scomparve un'altra bilocazione ebbe Padre Pio con Maria Tartagnino il 30 novembre 1940 che qui stette alcune ore in colloquio con la mistica la consola la incoraggia le dà la benedizione per lei e per Padre Martino Maria ne rimane assai lieta e conserva per se stessa quanto Padre Pio le ha detto verrà ancora due volte durante il soggiorno di Maria a Rocchetta Tanaro in casa Merio tra il 5 e il 13 luglio del 44 quando tutto sarà vicino a compiersi nell'offerta finale il superiore generale dei padri Giuseppini che ebbe non poco a soffrire per causa di tutto questo andò personalmente due volte da Padre Pio a chiedere se era vero quanto la Maria gli aveva confessato gli aveva affidato come confidenza Padre Pio all'inizio fece finta di non sentire poi poi a lui fece cendo col capo sì è tutto vero Padre Pio aveva associato a sé non solo Maria Tartaglino ma aveva associato a sé in questa unione mistica con Gesù in questa partecipazione piena e totale alla sua opa di redenzione tantissime altre anime non si finisse più di scoprire quante anime hanno incontrato Padre Pio direttamente a San Giovanni Rotondo e quante altre lo abbiano incontrato perché lui è andato personalmente col dono della bilocazione a portare loro luce e conforto tutto questo lo possiamo vedere nella luce della storia del tempo in cui Padre Pio è vissuto una storia assegnata dal dominio delle ideologie più contrarie alla Chiesa quale il nazismo e il comunismo un tempo segnato anche dal tentativo di annaquare il cristiano di cattolicesimo di renderlo soltanto sociologico di renderlo soltanto sociale c'è nella cultura che va dal tempo della riduzione francese fino ad oggi una profonda purtroppo profonda e forte negazione del Cristo i santi del ventesimo secolo sono tutti incentrati in Gesù tutti incentrati in una forte rivendicazione del primato di Gesù nella vita nella società nella storia ora Maria Tartaglino alla scuola di Padre Pio perché ella sapeva dello stigmatizzato del Gargano sapeva fin da quando Padre Pio era stato stigmatizzato sapeva di lui e viveva praticamente sulle sue orme quando poi lo incontrò in bilocazione per lei fu il massimo della gioia fu il massimo della gioia vedersi vedersi garantita la sua vita spirituale la veridicità della sua vita spirituale da un uomo santo quale Padre Pio era agli ultimi dieci anni di Maria Tartaglino sono terribili Maria Tartaglino aveva anche oltre al dono delle stimmate aveva alle dono delle estasi cadeva moltissimo in sogno estatico in queste estasi vede tantissimi personaggi oltre a Gesù Cristo vede San Giuseppe vede San Pietro vede San Monsignor Marello ha dei colloqui mistici incredibili scrive delle opere che esistono tuttora e arriviamo praticamente agli anni della guerra scoppia la guerra il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra cominciano i primi bombardamenti su Asti e tante persone vengono a chiedere aiuto soccorso a lei da questi fatti bellici dal bombardamento e la paura delle bombe e la paura di morire Maria Tartaglino ancora in vita fa delle grazie fa delle grazie soprannaturali persone guariscono da malattie incredibili salva diverse persone da incidenti e tutti venivano a chiedere soccorso a lei nostro nonno Lorenzo Tartaglino era il suo fratellastro nostro papà Ivo Tartaglino era il nipote e noi essendo sui figli siamo i pronipoti noi della zia ne abbiamo sempre sentito parlare da nostro padre perché appunto ci raccontava della sua vita come era lei e soprattutto io mi ricordo ero piccolina ma sono rimasta impressionata da questo racconto dove papà diceva che prima di partire per la guerra mio papà è andato in guerra nel 41 in Libia ed era sulla nave il conte rosso e la zia prima di partire mesi prima le aveva dato questa catenina con questo crocefisso e le aveva detto Ivo indossala perché il conte rosso verrà fondato e tu sarai uno dei pochi che sarà salvato e aveva fatto fare un quadro prima che papà partisse e il quadro lo conserva mio fratello e in effetti il conte rosso fu affondato e papà è rimasto in mare parecchio e poi è stato salvato nudo con la catenina però e il crocefisso della zia al collo quindi io questo racconto mi è rimasto impresso perché io ero piccola me lo facevo raccontare e io purtroppo papà è mancato cinque anni fa quindi però papà aveva l'alzheimer però io ho un suo ricordo dove gli ho fatto un un video su whatsapp dove gli chiedo appunto della zia e lui gli dico papà cosa ti ricordi della zia maria e lui era una cosa piccola era in quel letto era minuta esile e lo conservo tuttora mandami un bacio papà ciao papà ti voglio bene e poi ho avuto la fortuna in quel periodo di conoscere padre Alberto Chilovi che più volte è venuto ad Acqui appunto da papà e mi parlava sempre della zia ed era sempre allegro mi diceva Paola bisogna nella vita bisogna essere allegri non tristi bisogna pensare in positivo il crocefisso ritornerà la zia da lassù ci aiuterà e in effetti io l'ho assistito fino a quando è mancato è mancato l'otto di marzo e lui la zia la vedeva io mi ricordo un pomeriggio inoltrato lui a un certo punto si gira e mi guarda e mi fa ma dove è andata io gli dico ma di che stai parlando padre Alberto lui mi dice mi sto parlando della zia guarda che era qui su questo letto c'è anche una scritta Gesù mi dice a Maria Taterina è l'altare del sacrificio che spia redime e sala un altro giorno le dice tu devi stare in questo letto come il suo di un trono come gli angeli immersi nella preghiera supplichevole c'è anche la data di queste due affermazioni di Gesù all'attacco infatti lei è vissuta per le anime per i peccatori soprattutto la sua vocazione dice lei stessa è l'amore amare a Dio più che forse possibile voglia amarlo più che chiunque altro che nessuno mi ha amato così tanto signori come lei il desiderio davvero nel 1943 sempre in guerra in Tunisia in Africa prima del maggio 43 quando le truppe dell'asse furono costrette alla resa dagli angloamericani un plotone di soldati italiani con il loro papà insieme dovevano attraversare un tunnel per arrivare dall'altra parte dove avrebbero potuto mettersi in salvo cominciano a entrare in questo tunnel e improvvisamente il loro papà sente come una forza misteriosa che lo ferma che gli impedisce di andare avanti mentre una voce interna gli dice non andare fermati non proseguire lui si ferma ovviamente anche impossibilitato ad andare oltre gli altri invece vanno vengono tutti uccisi dai nemici che stavano dall'altra parte l'unico a salvarsi è stato il quadro che accennava mia sorella in camera mia da letto me l'ha donato mio padre e io purtroppo sono stato operato circa 4 anni fa di un brutto male diciamo di un male del secolo e io mi sono sempre appoggiato a quel quadro e vedevo sempre questo crocefisso che mi guardavi in ogni posizione in cui ero quindi per me è stata una veramente una risorsa interiore che mi ha dato la forza di combattere questa malattia un altro grosso punto interrogativo che ho che a mia sorella non l'ho mai quasi confessato anche perché io sono un po' più vecchio quindi cerco alcune cose di tenerle per me per non preoccuparla più di tanto e quando mia mamma prima dell'operazione di essere stata operata al cuore di quelle valvole di cui tanto si è parlato quel pomeriggio prima di essere ricoverata in clinica per l'operazione mi ha preso e mi ha fatto fare il giro della casa e mi ha detto ho parlato con padre Pio voi fatemi operare ma io morirò e così è stato quindi questo qui è stato veramente un altro segnale che non ho dato importanza invece come mi ha fatto capire padre Alberto le cose devi sempre valutarle con sorriso e con speranza e con tolleranza questo è stato un grande insegnamento e un terzo che non so proprio spiegarmi padre Pio ha scritto a mia mamma una bellissima lettera di tre pagine questa lettera questa lettera quando mia mamma è mancata non l'ho più trovata quindi l'abbiamo cercata per mari per monti come si dice eppure non c'è più nessuna traccia quindi si vede non so cosa c'era scritto perché me l'aveva consegnata in una busta chiusa e mi aveva detto dopo l'operazione di aprirla però noi non l'abbiamo più trovata l'aveva lasciata in un cassetto in casa sua non l'abbiamo più trovata negli ultimi anni aveva anche avuto anche dei problemi di salute la ferita al cuore il danno al cuore si traduce in una miocardite quindi un'infiammazione della parte muscolare del cuore del miocardio subentra una forma di diabete va in insufficienza renale questi problemi si trascinano per alcuni mesi siamo nel 44 fino a quando alle ore 20 e 10 del primo settembre muore viene viene vista da alcuni da tutti i confratelli tutti vanno a trovarla fra l'altro va a trovarla ancora prima gli ultimi istanti prima di morire un confratello un religioso un giuseppino padre Alberto Chilovi all'epoca ragazzino non era ancora sacerdote va a un colloquio mistico con lei io ho conosciuto padre Chilovi io ho sempre chiesto che cosa avesse parlato con Maria Tartaglino non ha mai voluto dire niente viene rivestita degli abiti da sposa con un abito bianco bellissimo tutto pizzo con un velo stupendo viene sepolta viene fatto il funerale il 3 settembre del 1944 viene sepolta nel cimitero di Asti dove è tuttora di Asti Grazie a tutti.